Siamo con Gwendalina Sibona a presentare il suo libro Un passo in più. Volevo iniziare con una breve lettura di un brano che secondo me ci introduce un po' al tema e anche la e soprattutto al personaggio. Allora se mi permetti inizio con questo e poi tu hai portato un video da un brevissimo video che aiuta ulteriormente a capire di cosa stiamo parlando. Io sono irrequieta alle volte una condanna perché se non faccio tre cose tutte insieme finisce che non sono soddisfatta perché se mentre corro non chiacchiero con tutti scatto foto e magari scrivo anche un libro ho paura di essermi persa qualcosa. Il traguardo del Tour de Jean non poteva essere un punto di arrivo. Quell'esperienza si chiudeva con la promessa di un orizzonte ancora più ampio, un'avventura che da lontano mi ammiccava. Sembrava distante, forse inaccessibile, ma lo era solo in quanto nuova. Poi Marco, il mio compagno, è sbucato in fondo a Viale Roma con quel petturale azzurro glacier accartocciato come la sua faccia ma ancora svolazzante come il suo sorriso che portava distintamente i segni della tempesta e del sole rovente, del vento sferzante e del ghiaccio notturno e tutto è sembrato più vicino. Il desiderio che il viaggio continui non si esaurisce mai e questa è la mia unica certezza. 450 chilometri, 32 mila metri di dislivello, alte vie sconosciute. Il Tour de Glacier era un appuntamento irrinunciabile. Il 9 settembre 2022 sarei stata sulla linea di partenza. Per sintetizzare, il Tour de Glacier è una lunghissima gara di corso in montagna a tappa unica di 450 chilometri, 32 mila metri di dislivello, 190 ore al tempo massimo, 200 partecipanti, 3 basi vita, 27 rifugi e 8 passi sopra i 3 mila metri. In pratica segue alte vie meno battute, meno blasonate del Tour de Jean, di cui poi parleremo anche, ma non ci sono bandiere a indicare il percorso e la gestione della gara è quasi in completa autonomia. La prima delle tre basi vita arriva dopo quasi 160 chilometri, l'ultima è a più di 170 dall'arrivo. La traccia punta sempre dove non ci si aspetta. Il sentiero svolta all'improvviso e in un attimo ci si ritrova smarriti in un altro mondo, fatto di colossi di rocce e di ghiaccio. Il Tour de Glacier è la gara di Endurance Trail più bella al mondo. Allora aggiungiamo ancora il video e poi iniziamo a chiacchierare. 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 ma l'aspetto che secondo me è più pregnante rispetto a questo libro è il fatto che sei una grande viaggiatrice e quindi prima ancora di entrare proprio nel merito del Tour de Glacier di cui tra l'altro potete anche osservare delle foto dietro di noi volevo capire qual è stato il viaggio che ti ha portato alla linea di partenza insomma di questa gara Allora, buonasera a tutti intanto Dunque, il Tour de Glacier è stato l'ultimo viaggio gara viaggio avventuroso che ho fatto, 2022 Facciamo una premessa Tour de Glacier è una gara di corsa in montagna un endurance trail, una gara di corsa molto lunga che appunto ho visto il chilometraggio si prolunga per diversi giorni e da lì dunque la connotazione di viaggio appunto parliamo di viaggio perché non è uno sforzo fisico che si esaurisce in poche ore ma essendo così prolungato andando avanti giorno, dopo giorno, dopo giorno ci sono in mezzo anche le notti, si va avanti anche durante la notte si tratta proprio di un viaggio sì, fotografa, scrittirce, insomma un po' mediocre in tutte e due le cose diciamo però come hai letto mi piace fare tante cose tutte insieme soprattutto mi piace viaggiare quindi amante dei viaggi non solo di corsa chiaramente nella vita ho fatto tante esperienze di viaggi anche in giro per il mondo zaino in spalle spesso anche da sola quindi alla scoperta di posti lontani ultimamente mi sono avvicinata a questo mondo della corsa in montagna per partecipare a questa gara, il Tour de Glacier bisogna aver completato, bisogna aver portato a termine la gara più conosciuta adesso non so, qui stasera quanti conoscano un po' questo sport conoscano le gare valdostane eccetera la più famosa prima del Tour de Glacier è il Tour de Jeanne una gara di endurance trail di 330 chilometri probabilmente ne avrete sentito parlare è una gara che ricalca le note perché sono alte vie su cui spesso la gente va per fare trekking quindi vie molto battute sono l'alta via numero 1 e l'alta via numero 2 la gara le ricalca quasi completamente tranne qualche piccola variante e appunto si tratta di 330 chilometri e 24.000 metri di dislivello portando a termine quella gara entro un determinato tempo puoi avere accesso a questa sorella un po' più lunga e effettivamente con delle connotazioni diverse quindi autonavigazione prima di tutto che vuol dire che il percorso non è come normalmente succede in questo tipo di gare segnato con bandierine, nastri che indicano proprio il percorso ma viene consegnata una traccia GPS quindi devi essere autonomo nel seguire il percorso e nel seguire dall'inizio alla fine la traccia che ti è stata data questa è intanto la grande differenza sì però quello che tu hai iniziato a correre in montagna da poco e com'è che sei arrivata a fare 330 chilometri 450 chilometri in montagna perché mi sembra una cosa non da poco insomma allora ho iniziato da poco relativamente sì ho iniziato nel 2015 quindi poco meno di dieci anni fa ho iniziato a correre vabbè per seguire il mio compagno Marco che invece correva da tanti anni prima di me era lo sport che occupava gran parte del suo tempo libero e vabbè come spesso succede nelle coppie tra uomo e donna poi alla fine è sempre la donna che un po' va incontro alle esigenze perché era difficile magari smussare certi caratteri quindi ho detto vabbè provo a correre anch'io quindi dal 2015 più o meno ho iniziato a correre non avevo mai corso in vita mia e ho iniziato a farlo sui sentieri perché invece ero amante della montagna sono sempre andata in montagna a camminare a un ambiente che mi ha sempre affascinato e i sentieri li ho sempre vissuti da camminatrice ho provato a correre in montagna effettivamente nel 2015 ho iniziato a correre ho capito che la faccenda mi piaceva dopo un paio di mesi che avevo iniziato ho provato con una gara una gara in cima al lago di Como io abito, ai tempi abitavo a Milano sono milanese quindi centro poco con la montagna però ci si adatta poi appunto magari per le donne è anche un po' più facile quindi milanese che si è spostata verso i monti ho provato con una gara di 32 chilometri che all'inizio mi dice corri da due mesi inizia con qualcosa di più soft però appunto c'è una 32 chilometri proviamo quella l'ho provata ed è stata innamoramento a prima vista quando sei a salire verso il passo e poi scollini e inizi a correre per di fiato in discesa questa cosa qui è una roba ho frequentato per tanto tempo il CAI ma non me l'hanno mica insegnata che si poteva correre in discesa sembra sempre una roba un po' un tabù che in montagna si possa correre che si possa farla in discesa che è pericoloso ma non lo so finora pericoli pericoli in discesa non ne ho ancora trovati per carità in montagna bisogna sempre andarci con un certo tipo di approccio eccetera però c'è anche una parte molto divertente nel trail e probabilmente quella che mi ha affascinato all'inizio successivamente ho scoperto mi sono avvicinata anche un po' invece al l'altra componente di questo sport che in qualche modo va apprezzata che è la fatica quindi non c'è solo la montagna non c'è solo l'ambiente non c'è solo il divertimento c'è anche una bella componente di fatica perché per tutti gli sport poi soprattutto di resistenza ho iniziato con una 32 km un anno dopo facevo una 90 km perché avevo capito che non ero tanto portata per la velocità mi piaceva di più ero più una da resistenza più una da da stare tanto sui sentieri perché appunto era una dimensione che mi piaceva e quindi ho allungato abbastanza velocemente diciamo le distanze fino a trovarmi nel tre anni dopo 2018 sulla linea di partenza del Tordesian quindi 330 km avevo capito che quella dimensione lì rappresentava appunto la dimensione viaggio viaggio in montagna e quindi promessa di avventura e chissà cosa succede passata la notte arrivato al secondo giorno e via dicendo no fa solo ridere che tu dici sei partita con una gara da 32 km e poi hai capito che ti piaceva di più la resistenza ma per molta gente 32 km è già una una soglia di resistenza totale insomma guarda io ho fatto per anni arrampicata mi piaceva molto arrampicare poi vabbè da milanese chiaramente arrampicavo tanto in palestra quindi plastica ogni tanto andavo in falesia quindi si mi avvicinavo alla montagna e mi impegnavo un sacco tre volte a settimana esercitarmi eccetera non miglioravo mai cioè non era il mio sport non sono portata per quella cosa lì ho iniziato a correre invece mi sono sentita proprio che fosse mio quello e poi di qui a essere dei campioni ce ne passa ovviamente però quantomeno che mi venisse facile probabilmente mi piaceva e quindi mi ci sono trovata bene in quella dimensione allora veniamo un po' proprio direttamente al libro allora secondo me il libro è soprattutto un viaggio emozionale e sensoriale attraverso le montagne della Val d'Aosta attraverso questa attività così così particolare partiamo dalle sensazioni positive perché poi ci sono anche ovviamente quelle negative in qualche modo ovviamente c'è la vista dei paesaggi meravigliosi che tra l'altro stiamo anche vedendo nelle foto metti moltissimo gusto perché praticamente Gwendalina nel libro racconta tutti i piatti che mangia che divora in ogni punto tappa in ogni rifugio dove dove si ferma c'è anche proprio la come dire la sensazione di calpestare il terreno che cambia in base ai ai vari percorsi alle varie quote che vengono attraversata e poi ci sono anche moltissime relazioni umane perché racconti degli altri concorrenti con cui capita di fare un tratto di gara insieme si tratta quasi sempre di tratti molto brevi perché poi ognuno ha il proprio ritmo ognuno gestisce il riposo il sonno in maniera diversa ci sono le relazioni con i volontari che danno un grandissimo supporto lungo il percorso poi ci sono le relazioni con un nucleo di amici che vengono raccontati proprio direttamente nel libro che si raccontano nel libro che raccontano la loro esperienza c'è l'amore anche verso Marco con cui percorrete praticamente tutta la seconda metà del percorso e quindi mi chiedo tutti questi aspetti come sei riuscita a focalizzarli nonostante la fatica nonostante il disagio grande che si vive a camminare a correre per 450 km ma allora succede questo quando stai camminando correndo quando affronti una prova del genere parti primo giorno ok prima notte più o meno stai sveglio perché un giorno una notte si può reggere anche io che sono una dormigliona arriva il secondo giorno passato il secondo giorno perché qui comunque stiamo parlando di una settimana di gara non è che ho finito in 48 ore ci sono messe di tempo tempo massimo e sono 190 ore io ci sono messe 184 quindi insomma proprio al limite una settimana comunque in quella in quella dimensione la la componente predominante è quella che accennavo prima della fatica ora quando fai una prova fisica e mentale di questo tipo la fatica permea l'intero arco della giornata cioè non c'è mai un momento in cui tu non sia stanco provato quella componente lì unita al dove sei sono a un passo oltre i 3000 metri col ghiacciaio da una parte la discesa a picco verso i laghi dall'altra sono fuori dal mondo sono in un contesto che non c'entra niente con la mia quotidianità in più ci sono con un accumulo di stanchezza di fatica di di questo tipo che amplifica qualsiasi emozione qualsiasi cosa io stia provando in quel momento quando sei in una situazione del genere qualsiasi emozione diventa dieci volte più forte di quella che sperimenti nella vita quotidiana quindi fa proprio un'amplificazione di questo stato di cose in positivo e in negativo quindi funziona sia in negativo se hai qualche malanno qualche acciacco qualcosa che ti fa male in quel momento tendini robe vesciche cose diventano malanni insormontabili quasi e allo stesso modo anche per tutte invece le sensazioni le emozioni positive diventano qualcosa di sconvolgente davvero di incontenibile che ti scombussolano e questa cosa dicevi ci sono anche tanti compagni di viaggio perché anche quello mentre sei sull'alta via che cammini e magari sei nel cuore della notte alla terza notte con il vento che soffia sei tutto imbacuccato trovi un altro concorrente sul sentiero perché a quel punto siete arrivati più o meno insieme si esce da un rifugio insieme a un'altra persona che magari fino a quel momento non è incrociato con cui non hai parlato anche i rapporti umani lo scambio con gli altri concorrenti con le altre persone o anche con i volontari diventa molto più semplice molto più immediato di quello a cui siamo abituati cioè noi stasera ci siamo visti per la prima volta abbiamo chiacchierato non ci siamo fatti grandi confidenze perché è una roba normale ci sono degli step normalmente invece se sei sull'alta via delle barriere dei ruoli ma anche delle maschere ovviamente ci confrontiamo in una società con persone sconosciute se sei sull'alta via tutte queste barriere non ci sono cioè sei a fare una prova talmente stressante talmente forte che riconosci nell'altra persona uno simile a te ti riconosci nell'altro è immediato anche il bisogno di scambio di condivisione di confronto facilmente vengono fuori appunto confidenze e scambi che normalmente conversazioni che non sarebbero così nella vita normale si è totalmente privi di qualsiasi inibizione diciamo possono nascere anche amicizie molto profonde perché appunto ci si presenta come si è senza filtri senza costrizioni oltre agli altri concorrenti a chi fa parte della gara nel libro ho portato proprio direttamente le storie e le voci di alcuni amici che erano con me in gara alcuni partecipavano come me al Tour de Glacier abbiamo citato Marco ma a parte lui avevo altri tre amici in gara eravamo insieme sulla linea di partenza altri due amici scusate quattro e due invece partecipavano al Tour de Glacier perché al Tour de Jeanne perché la gara è durante la stessa settimana a parte un paio di giorni dopo e sono amici con cui io condivido gli allenamenti le corse in montagna durante l'anno in definitiva condivido parti della vita e ho voluto portare le loro voci le loro le loro storie proprio perché poi la gara è unica la fatica è quella però poi la soggettività di ognuno è propria quindi poi ognuno ha il proprio percorso ognuno ha la sua storia sicuramente il denominatore comune tra tutte le voci è l'amore per la montagna parliamo di una gara di due gare non sono non sono gare l'aspetto competitivo viene a cadere molto presto nessuno dei miei amici è quello che si dice un top runner quindi in queste gare sono davvero numero esiguo i top runner quindi quelli che fanno la gara per fare il tempo per fare classifica per vincere ok non è il nostro caso quindi il nostro caso è portare a termine il viaggio vivere il viaggio vivere la montagna vivere quell'esperienza e il tassello in più poi che mi porta a scrivere un libro tornata a casa è anche la voglia è quasi la necessità di comunicare anche ad altri amici anche ad altre persone che non hanno che non erano con me sull'alta via che non hanno vissuto quell'esperienza che probabilmente non la vivranno mai che non praticano questo sport anche che non sono montanari comunicare anche a loro quelle emozioni e quelle quelle quell'esperienza così fuori dall'ordinario diciamo appunto nell'immaginario una persona che partecipa a una a una gara a una competizione punta al traguardo invece qua c'è proprio tutto il percorso che porta al traguardo e mi chiedevo anche in una situazione così di di fatica anche di stress fisico come come si fissano nella mente tutti questi vari passaggi perché il libro è anche molto lungo è così ricco di di dettagli di elementi di aspetti che mi chiedevo proprio anche come hai lavorato per per delineare tutta questa sequenza di di aspetti curiosi interessanti faticosi e così via ma allora a volte ho preso appunti mentre correvo cioè ho proprio registrato col registratore del cellulare ho registrato degli audio ho parlato per fissare proprio dei momenti del perché mi rendevo conto che ogni tanto succedevano delle cose più o meno strane perché poi appunto siamo sempre nella situazione del io e gli altri concorrenti in giro su ste alte vie con tutto l'accumulo di stanchezza che abbiamo detto che vuol dire anche caso estremo diciamo allucinazioni appunto cose strane che succedono ognuno si fa ogni tanto dei film di cose che poi non esistono quindi anche cose curiose e prendevo proprio appunti perché volevo sapevo che non avrei potuto ricordare poi tutto veramente e poi anche perché non sai fare una cosa sola per due volte camminavo e basta sembrava un po' eri già partita con l'idea di scrivere un libro no no perché questo è il secondo libro che scrivo sull'argomento endurance trail avevo già pubblicato un libro un giorno ancora che è il titolo del libro che parlava della mia esperienza al tour de jean quindi un libro che risale a due anni fa due anni e mezzo fa e non avevo assolutamente intenzione di scrivere un altro libro però anche mentre gareggiavo non escludevo che una volta a casa mi sarebbe piaciuto comunque buttare giù due idee ma anche per me soltanto fissare dei momenti fissare il ricordo di quell'esperienza quindi per quello questa cosa di prendere appunti mentre cammino l'idea del libro è arrivata dopo qualche mese dopo su sollecitazione della casa editrice a cui ho detto per due volte di no perché avevo già scritto un libro su un argomento simile mi sembrava una ripetizione poi ci ho ragionato ho capito che effettivamente sì l'esperienza era simile perché parliamo sempre di corse in montagna di corsa lunga in montagna poi sempre val d'osta però in realtà i percorsi sono molto diversi le modalità anche di partecipazione sono diverse io stessa ero diversa perché comunque erano sono passati degli anni quindi io stessa il mio approccio alla montagna è cambiato e in più appunto potevo contare sull'esperienza anche degli amici che sono stati messi un po' alle strette nel senso li ho obbligati a raccontarmi glielo chiesto poi insomma le raccontate le registriamo alcuni amici si capisce che non è che proprio muoiano dalla voglia di parlare di raccontare quindi sei riuscita anche insomma a farli parlare sulla carta che non è che non è sempre facile e allora adesso veniamo un po' alle sensazioni negative che nel libro ci sono perché ovviamente ci sono anche durante la gara c'è un'enorme fatica sofferenza dolore che in qualche modo sono tutti dei segnali che il tuo corpo ti manda per magari chiederti di fermarti e però poi in una situazione del genere non so immagino che ci si metta una grandissima forza di volontà per continuare nonostante questi segnali che arrivano e quindi appunto mi chiedevo come funziona questo processo lì nel momento quando stai quando sei impegnato in uno sforzo così così prolungato e allora di base chi parte a fare una gara del genere lo deve mettere un po' nell'ordine delle cose che possano succedere dolori fisici quindi quali sono tipicamente infiammazioni vesciche problemi di stomaco per esempio l'aspetto dell'alimentazione quando ti devi alimentare forzatamente sotto sforzo è un altro tassello abbastanza delicato non è il mio caso io appunto come diceva racconto nei dettagli tutto quello che mangio mangio tanto mangio ogni due ore durante la gara un piatto di pasta mediamente molti si portano quelle bustine con i gel energetici guendalina si porta la maionese le bustine di maionese le bustine di maionese sì sempre nel fattori positivi della gara insomma maionese ci sta secondo me ti dà anche un po' di buon umore insomma se l'aggiungi a panino ai crackers per dire un po' crackers basta crackers maionese potendo scegliere no ecco ma l'anni relativi allo stomaco non sono il mio caso però infiammazioni avevo già sperimentato il tor de jean che il tor de jean l'ho fatto due volte per due volte più o meno al duecentesimo chilometro zac tendini tendini estensori delle dita che sollecitati in salita in discesa si infiammano e si infiammano che se ti ti fermassi e non andassi avanti va bene è un dolore sopportabile ma se devi andare avanti ad ogni passo il dolore aumenta quindi duecento chilometri ce n'è ancora centotrenta da fare mettiamo che ogni passo peggiori quindi per due volte l'ho fatto ho fatto il tor de jean per due volte ho constatato questa cosa quindi al tor de glasier partivo mettendolo in conto ma perché avevo anche esperienza di tutta la parte invece positiva e come dire è un lo scotto da pagare se vabbè un po' di infiammazione poi sì quando sei al trecentesimo chilometro e ti mancano centocinquanta e hai male entrambi i piedi ti sembra una cosa insopportabile e lì deve andare un po' di testa dura e l'aspetto di essere testardi aiuta meno male lo sono non è sempre positivo però in questo caso sì quindi sì sopportare gli acciacchi poi durante il tor avevo durante il tor de gianna avevo visto che ad alcuni venivano le vesciche ad alcuni si infiammavano i tendini a me si infiammavano i tendini beh le vesciche non mi verranno mai tor de glasier quarantesimo chilometro vesciche la gara l'ho fatta con entrare sia le vesciche che quindi cazzata si può dire cazzata al circolo dei lettori non so però fiammazioni e vesciche possono venire insieme sì le ho avute tutte e due però quelle sensazioni quelle emozioni così potenti così forti quando stai salendo al passo arrivi al passo ti si apre la valle successiva e poi scendi risali dall'altra parte si apre un nuovo orizzonte quella proprio sete di viaggiare è talmente potente che puoi affrontarla anche con le vesciche e con le infiammazioni alla fine e invece appunto come distingui i segnali che il corpo ti manda che puoi ignorare che che puoi insomma su cui ti puoi distrarre perché poi ci sono anche insomma tutta una una serie di di sistemi di intrattenimento che si hanno per distrarsi per non pensare alla fatica alla stanchezza e invece poi ci sono dei momenti in cui uno magari deve mettersi lì riposare qualche ora prima di ripartire c'è una c'è un modo per distinguere queste due situazioni ma allora sul riposare sì diciamo io avevo impostato impostato il viaggio torde glaciers mettendo in conto di dormire ogni notte almeno tre quattro ore perché sapevo che ci sono alcune persone che reggono anche tre tre giorni consecutivi senza dormire soffrono meno la mancanza di sonno io invece la soffro tanto e e quindi ho impostato come il percorso è un percorso che rimane sempre quasi sempre in quota scende nei paesi quindi in fondo valle più o meno tre volte però attraverso tanti rifugi i rifugi sono punti in cui puoi fermarti riposare dormire mangiare e quindi ogni sera più o meno tentavo di fare una pausa per resettare un po' a livello stanchezza riposare ripartire sul quando il male diventa talmente importante da doversi fermare anche lì doversi fermare come pausa e poi ripartire o doversi fermare e ritirarsi allora ritirarsi non lo so non mi ritiro mai non è vero mi sono ritirata qualche volta però effettivamente pensandoci dopo mi sono sempre ritirata perché avevo qualche problema che avrei potuto superare fermandomi di più spesso in queste gare soprattutto queste lunghe sì poi è chiaro che se ti rompi qualcosa ho conosciuto anche una ragazza che si è rotta entrambi i piedi ma rotture da usura durante il torde torde jane lei pretendeva di andare avanti poi ci sono anche dei medici durante lungo il percorso che hanno la facoltà di fermarti cioè impedirti di proseguire se ti trova in uno stato fisico che tu magari svalvolato dalla stanchezza non capisci cioè lei non aveva capito di avere delle ossa rotte ok quello è il caso un po' estremo tutto quello che non è a quel punto lì e si può sopportare e fa parte del gioco vabbè provateci provateci pure perché è un'esperienza che bisogna provare insomma e allora c'è un aspetto che io trovo veramente curioso legato al Tor de Jean e al Tor de Glacier che sono degli eventi in qualche modo sportivi in cui la performance viene in secondo viene in secondo piano nel senso che non so che che tipo che grado di conoscenza abbiate anche voi di queste manifestazioni però dalla percezione che ne ho io è che l'entusiasmo dei partecipanti la il coinvolgimento dei volontari che stanno sul percorso l'epopea di queste due alte vie che vengono unite per cui si parte da Courmayeur si attraversa la Val d'Aosta da un lato si torna dall'altro in qualche modo sono più importanti della performance sportiva del top runner che vince del tempo che fa e così via e tra l'altro penso non so mi sembra un caso più unico che è raro intorno al Tor de Jeanne e al Tor de Glacier sono stati scritti un sacco di libri cioè un sacco diversi libri che non so quale altra manifestazione sportiva abbia ricevuto un'attenzione del genere poi tutti i libri scritti da partecipanti vi si immagina completamente obnubilati dalla fatica e tutto però in realtà è una grandissima fonte di ispirazione forse è proprio l'epopea del viaggio che che trasmette questo eh sì penso che che la chiave sia quella allora intanto al Tor de Jeanne tutti si possono iscrivere nel senso che non c'è una selezione quindi chiunque abbia voglia di farlo può tentare di essere preso perché c'è un'estrazione quindi a sorteggio ci sono un migliaio di posti circa negli anni li hanno un po' aumentati erano meno adesso sono circa un migliaio spesso c'è più del doppio di gente che prova a iscriversi quindi le probabilità di essere estratte non sono altissime però potenzialmente chiunque può approcciare questo viaggio ovviamente chiunque bisogna avere chiaramente un minimo di conoscenza della montagna saper stare in montagna tanti giorni e un pochino magari anche correre perché comunque c'è un tempo massimo perciò è un percorso che si può fare anche completamente camminando però insomma bisogna andare un po' spediti diciamo quindi chiaro che ci deve essere un minimo di base però c'è quella componente lì che è più o meno alla portata di tutti e quella cosa che dicevo delle emozioni forti in un ambiente naturale a tratti estremo perché appunto se sei in cima al passo comunque a certe quote anche il Tor de Glacier ok supera 8 volte 3.000 metri quindi ci sono dei passi impegnativi poi anche passaggi più tecnici ma lo stesso Tor de Jeanne ha un colle che ha 3.300 metri ovviamente se ti ritrovi a farlo di notte piuttosto che col brutto tempo la pioggia la neve in qualche caso ovviamente è un contesto che amplifica qualsiasi sensazione emozione e quella connotazione lì appunto di viaggio va ben oltre quella di di competizione il fatto che ci sia un traguardo alla fine della gara a me non interessa cioè tagliare il traguardo sì per carità è una gara e l'obiettivo è sempre arrivare in fondo quindi chiudere il cerchio finire ma quella componente anche di sfida con se stessi che pure c'è perché ovviamente mollare a metà ritirarsi ok hai fatto metà viaggio comunque un po' te la sei goduta però ti sei formato chiaro che non è paragonabile a averlo finito e però il punto secondo me non è tanto lì quanto proprio il il momento in cui sei in mezzo al viaggio quindi sai che stai finendo la decima salita stai passando stai per scollinare stai per arrivare davanti a una nuova valle e lì si apre un mondo nuovo diverso da quello che hai vissuto fino a quel momento ti catapulti in un altro ambiente vai in discesa e quando arrivi giù ci sarà un'altra salita quindi verso un altro colle verso un altro orizzonte un po' questa idea del viaggio senza fine quasi quindi poi sì il percorso gira per fortuna quindi a un certo punto si chiude altrimenti potrebbe essere davvero infinito e sarebbe bello lo stesso anzi appunto lungo il percorso diciamo cioè alla fine questa attività è un'attività prevalentemente solitaria che però hai voluto raccontare anche in una in una maniera un po' più collettiva dando voce a tutta una serie di amici di conoscenze di persone che hai conosciuto in questo mondo di amici più di vecchia data che in qualche modo hanno partecipato con te e cercando di raccontare un po' i vari tipi di motivazione di spirito con cui si affrontano imprese di questo genere a me ha incuriosito molto quella di Nino che si è avvicinato quasi per caso a questa attività e che conclude gran parte delle gare a piedi nudi addirittura oppure ancora di più quella di Teresa medico mamma di tre figli che trova il tempo per allenarsi preparare una gara di questo genere farla concluderla insomma viene fuori un mosaico di persone molto variegate che danno ulteriore interesse a tutto questo mondo e in qualche modo forse sono anche uno stimolo per avvicinare persone che non hanno esperienze dirette o comunque che vogliono conoscere questo mondo perché ti trasmettono tutta una grande varietà di esperienze di testimonianze e questa idea appunto di dare voce a tutti loro come ti è venuta e allora diciamo che abbiamo detto il tour de glaciers è un viaggio è un grande viaggio e il viaggio è da sempre metafora della vita quindi sei sulle alte vie cammini con le tue gambe puoi contare sulle tue forze fai conti con le tue debolezze e vai avanti passo dopo passo da solo perché in definitiva è così che facciamo anche durante la vita ma come durante la vita ci affianchiamo a qualcuno abbiamo un compagno una compagna con cui condividere gran parte del tempo e poi abbiamo delle amicizie degli amici che ci spalleggiano che ci stanno vicini che diventano essi stessi parte delle nostre vite ho voluto quindi dare spazio alle voci degli amici più vicini che poi sono amici che ruotano intorno a questo sport e quindi non necessariamente persone simili a me io ho un gruppo di amici diciamo storici amici da tanti anni milanesi milanesissimi che non praticano questo sport che magari sono molto simili a me per tante altre cose abbiamo un passato comune esperienze comuni abbiamo fatto magari le scuole insieme siano cresciuti nello stesso ambiente e che rimangono i miei amici tra l'altro sono i primi lettori a cui mi sono rivolta perché le prime cose le ho scritte proprio per raccontare a loro che non praticheranno mai questo sport e che non andranno mai sulle alte vie valdostane nel libro invece ci sono le storie di chi corre insieme a me che non sono persone che necessariamente mi assomigliano anzi il Nino citato è un un signore che nella vita fa il contadino poi fa anche l'elettricista fa anche 700 altri lavori collaterali ma fondamentalmente è uno che sta nell'orto tutto il giorno da zapparterra in Brianza lo passi a prendere prima di un allenamento lui appena ha finito di mungere la mucca tipo alle 6 del mattino appena finito di mungere sto mangiando pomodori così raccolti dall'albero dalla pianta c'è un personaggio molto lontano dalla mia quotidianità con cui che invece a cui sono diventata molto unita proprio grazie a questa passione comune che è più di uno sport che è un'attitudine che è un modo anche di affrontare il mondo che è un modo di guardare il mondo che è un modo di mettersi in gioco c'è Teresa che è un'altra amica 50 anni 3 figli 3 cani una tartaruga un marito che fa anche lui il marito questi 30 anni non li sapevo è inguaiatissima eppure 105 ore al tour de jean è una roba pazzesca perché quanto bisogna allenarsi insomma per preparare una gara del genere indicativamente poi tu sei un esempio non proprio da seguire da questo punto di vista no appunto non so parlare di tabelle di allenamento perché non è proprio il mio forte però se devi fare 300 400 chilometri di sicuro devi passare i mesi precedenti in montagna cioè devi fare più chilometri possibili devi stare più ore possibili sulle gambe quindi magari uscire al mattino tornare alla sera o qui in platea c'è un amico che è anche lui finisher della gara che fa l'allenamento va a dormire 5 ore e poi fa l'allenamento fino a notte fonda dorme poi si sveglia presto fa un altro allenamento ognuno poi c'ha le sue però appunto è il moto prolungato e appunto anche lì quasi senza fine c'è la capacità di continuare a camminare il più a lungo possibile per fare quella cosa devi stare tanto in montagna quindi è proprio un fattore di tempo ma quindi la settimana così proprio una quotazione a spanna e quando sei sotto gara magari fai 100 km la settimana poi dipende in montagna in montagna col dislivello perché se no se no vai a farlo maratona va bene allora continuiamo un altro aspetto che mi è piaciuto molto è come emerge la relazione tra te e Marco che appunto vi incontrate grosso modo a metà strada e continuate la gara insieme fino alla fine lui non so se sia il complice o il colpevole di questa tua passione ma comunque insomma è bello è un po' la chiusura del cerchio di tutto questo ed è anche divertente la differenza tra personalità che emerge cioè tu sei più esuberante chiacchierone impulsiva lui ti manda davanti in modo che tu possa seguire i tuoi ritmi la tua indole però ti segue passo passo ti sostiene quando componi lei durante durante la gara componeva dei dei rap che poi registrava tramite messaggio vocale sul telefono e Marco ti fa da base da ritmo anche questa è una una cosa divertente in tutto questo quando arrivate sotto l'ultimo il Colle il Colle Malatrà che ci sono condizioni meteo proibitive decidete insieme di andare avanti qualche volta nei passaggi più difficili lui passa avanti per sostenerti e poi concludete la gara insieme nonostante che poi nel frattempo sia stata interrotta proprio a causa del maltempo che avete deciso di sfidare e rappresenta anche insomma la vostra relazione nella vita di tutti i giorni questo modo di procedere penso di sì tornando al il viaggio metafora della vita l'ultratrail è metafora di come viviamo e come ci approcciamo al mondo anche alle difficoltà anche ai momenti difficili c'è la salita se avete in mente un grafico altimetrico della gara c'è una salita c'è una discesa salita discesa cioè niente di più lampante che la vita che è in difficoltà momenti invece di distensione che appunto affrontiamo da soli o insieme a qualcun altro in questo caso vabbè anche caratteri diversi attitudini fisiche anche diverse portano me a partire in gara più velocemente a stare davanti poi invece a metà gara i nostri passi si sono allineati normalmente io corro di più in discesa ma perché appunto c'ho quella roba lì dell'irrequitezza quindi se c'è la discesa posso correre voglio andare Marco invece è un po' più misurato mentre in salita va più forte di me quindi di solito mi stacca in salita e io poi lo recupero in discesa insomma abbiamo un po' questo modo di procedere mi ha trasmesso lui quindi lui il colpevole se pratico questo sport diamogli le colpe sì sì colpevole non complice poi anche complice sì il passo oltre è ok mi ha trasmesso questa passione ma poi molto velocemente l'ho fatta mia quindi le prime volte andavo sui percorsi insieme a lui decideva lui le mete il giro da fare molto velocemente poi ho iniziato a deciderle anch'io andare per i fatti miei o andare correndo davanti a Marco facendogli il passo e poi vabbè in una gara così lunga probabilmente Marco se non avesse a un certo punto della gara probabilmente lui non me lo dice ma credo che abbia deciso di stare in mia compagnia perché per come siamo fatti per come sono i nostri passi appunto io avevo l'accumulo di infiammazioni vesciche eccetera quindi man mano che andavo avanti soffrivo sempre un po' di più e rallentavo un po' invece lui funziona proprio al contrario parte più lento e recupera accelera andando avanti probabilmente ha deciso di tenere il mio passo quindi perché comunque è difficile far 200 km insieme a un'altra persona vuol dire che ti devi fermare sempre nello stesso momento devi dormire decidere di fare le soste per dormire per mangiare insieme quindi ovvio che per due persone che vivono la vita insieme magari conoscendosi è più facile perché hai un'intesa un po' più semplice bisogna che sia uno dei due ad adeguarsi all'altro e ammetto che forse io non ce l'avrei fatta a fare quella cosa lì di adeguarmi infatti tra l'altro la partenza lui rimane indietro a tutta una serie di problemi tu invece sei schizzata via non curante però questo è un aspetto di nuovo interessante cioè proprio l'esperienza di Marco che parte a tutta una serie di acciacchi fisici di problemi di difficoltà e tutto che in qualche modo si curano mentre cammina mentre va cioè il suo organismo non ha bisogno di fermarsi per per rimettersi in sesto ma lo fa progressivamente progredendo è un po' il contrario di quello che uno si immagina che stai male ti fermi ti metti a letto e poi guarisci invece in questo in questo senso qua mi ha proprio colpito anche tu in qualche modo anche nel libro precedente racconti di tutta una serie di disagi che in qualche modo superi nonostante la fatica nonostante lo stress a cui sei sottoposta ma che poi si risolvono da soli senza bisogno di fermarsi di interrompere quello che si sta facendo sì un po' c'è il fatto del fisico che si deve adattare a quella situazione nuova diversa dalla vita che hai fatto fino al giorno prima quindi proprio ingranare prendere il ritmo farlo diventare la normalità il fatto di continuare a camminare di fermarsi poco mangiare ripartire quindi anche il fatto della digestione mentre si cammina corre eccetera e il dormire poco fermarsi dormire due ore rimettersi lo zaino uscire ripartire giorno notte appunto senza più gli orari canonici quindi sicuramente il corpo ci mette un pochino a cambiare ottica a entrare in quel mood c'è quello nel caso specifico di Marco mettiamoci anche che c'è tanta esperienza anche una profonda conoscenza sia dei propri punti deboli che delle proprie forze a lui normalmente nelle gare succede di partire più lentamente avere qualche acciacchino e poi sa che se supera il momento di crisi va avanti e si riprende normalmente poi lui c'ha sta cosa che viene spesso preso come punto di riferimento da amici che fanno questo sport e allora gli chiedono consigli e normalmente la cosa magari uno gli dice c'è un po' male al ginocchio c'è un po' male di qua un po' non so cosa dovrei fare fai chilometri la cura è sempre fai chilometri quindi normalmente Marco si cura così quindi funziona proprio fa così quando c'ha l'influenza lui va a correre anziché mettersi a letto allora il mondo del trail running è ancora visto un po' di traverso tra gli appassionati di montagna e anche in qualche modo dal club alpino italiano nonostante abbia portato oggettivamente tantissime persone a conoscere questo ambiente a praticare attività in questo ambiente e sostanzialmente perché si crede appunto che attraverso il trail running venga veicolato un messaggio un po' sbagliato della montagna frequentarlo con abbigliamento leggero scarpe basse magari senza avere alle spalle una preparazione anche tecnica adeguata io appunto sono responsabile della comunicazione del soccorso alpino e spileologico piemontese e sinceramente da un punto di vista anche statistico ma anche di esperienza diretta di incidenti che hanno riguardato persone che emulavano quello che fa la corsa in montagna l'atleta di punta devo dire che non ne ho non ne ho contezza non è una cosa che si può osservare misurare realmente per cui mi piacerebbe capire anche qual è il tuo punto come ti approcci anche tu al tema della sicurezza da un lato che è molto importante quando si frequenta quel tipo di ambiente quando si frequentano dei determinati tipi di percorsi con anche l'aspetto della libertà cioè che comunque la montagna è un terreno di libertà dove ciascuno deve fare esperienze e insomma muoversi secondo le sue esigenze secondo il suo piacere tu appunto come la vidi questa situazione nel senso che chiaramente in gara c'è anche poi tutto un contesto per cui c'è anche personale sul percorso che in qualche modo può dare una mano può assistere e invece anche nelle uscite tue quotidiane che fai in montagna che tipo di approccio hai ma allora sicuramente di base e non solo per quella che è la mia esperienza ma direi anche per per l'esperienza degli amici vabbè gli amici citati nel libro perché sono citati nel libro ma in generale persone con cui io frequento la montagna vado in montagna vado in montagna correndo chi pratica questo sport c'è in generale una grande consapevolezza di dover conoscere l'ambiente prima di tutto quindi sapere che il meteo può cambiare in qualsiasi momento che le condizioni anche dei sentieri possono essere non quelle che ci aspettiamo nel senso qualsiasi intoppo qualsiasi ostacolo può essere all'ordine del giorno io personalmente prima di praticare la corsa in montagna andavo in montagna quindi andavo in montagna tra l'altro col cai perciò diciamo un'infarinatura del tecniche di anche conoscenza di percorsi più particolari e sentieri attrezzati magari dove ci sono catene eccetera il sapersi muovere in montagna e diciamo rispettare la montagna quello che fa un trailer di solito è correre su dei sentieri battuti segnati spostarsi da una valle all'altra attraverso dei passi che tra l'altro è molto meno pericoloso per esempio di quello che fa un alpinista assolutamente ben visto dal cai tanto per dire l'alpinista va tra virgolette a cercarsele nel senso va dove la montagna ti direbbe non è il caso che tu vada cioè in vetta non è la cosa sempre più saggia da fare chi fa corse in montagna di solito scavalca dei valichi attraversa dei passi che sono i naturali congiungimenti da una valle all'altra sono i punti in cui che ne so adesso vabbè ho l'esempio del Nepal perché ho fatto vari viaggi in Nepal e perché lì c'è un certo tipo di vita sulle alte vie chi deve spostare gli yak gli animali passa dal valico dal passo non passa dalla vetta tanto per dire quindi forse questa cosa del chi corre in montagna fa una roba pericolosa sarebbe un attimo da approfondire appunto poi tra l'altro nessuno va a correre in nessuno insomma mediamente non non andiamo a correre in braghette corte canottiera punto cioè io sempre dietro lo zaino ho sempre dietro l'antivento anche quando ci sono 30 gradi siamo in piena estate e vado a 600 metri appunto in una giornata con un meteo spettacolare ho dietro l'antivento spesso dietro il telotermico che è una cosa piccolina che non pesa che puoi mettere dappertutto e che in situazioni di sconvolgimento di meteo è assolutamente utile fondamentale quindi ti porti dietro dell'attrezzatura il pantavento un'altra roba leggera da mettersi nello zaino che magari non usi appunto io la maggior parte delle volte l'antivento non lo tiro neanche fuori dallo zaino però ce l'ho sempre con me quindi ci sono degli accorgimenti come l'alpinista va con l'attrezzatura chi fa trekking ha uno zaino con dentro l'attrezzatura poi secondo me chi fa trekking ne porta anche troppa io ne porto quello che credo sia adeguato anche a quello che faccio e questo fatto di in qualche modo appunto mostrare persone che in maglietta pantaloncini e scarpette corrono sui sentieri in alta montagna può indurre persone sprovedute ad affrontare quegli ambienti con maggiore leggerezza insomma prendendosi rischi in più io non lo credo personalmente ma non credo neanche che il trail running sia uno sport così tanto conosciuto da da avere questo potere quindi penso di penso di no sinceramente anche io appunto anche da da quello che che capita ritengo che una persona sproveduta abbia più o meno le stesse probabilità di farsi male indossando degli scarponcini alti sulla caviglia o delle scarpe basse e allo stesso tempo la fatalità è sempre in agguato sia che uno abbia addosso gli scarponi d'alpinismo le scarpette da corsa insomma per cui bisogna sempre cercare di affrontare questi questi aspetti insomma per quello che sono senza ingigantir di troppo e ancora appunto visto che siamo all'interno di una rassegna comunque dedicata alla montagna appunto questo diciamo è il terzo libro che hai scritto recentemente il primo dedicato al Tor des Geans questo qua il Tor des Glaciers in mezzo hai scritto questo libro sulla sulla sull'ascensione invernale al K2 in qualche modo sono due facce della stessa medaglia hanno due modi molto diversi di approcciarsi alla montagna appunto come ti sei avvicinata a questi due modelli a questi due tipi e a questi due approcci insomma allora il libro che ho scritto su l'invernale del K2 che la spedizione di gennaio febbraio 2021 quindi un paio di anni fa è un libro che ho scritto per un alpinista che era in quella spedizione un milanese un alpinista non professionista che da pochi anni ha approcciato il mondo dell'alpinismo arrivando da altre esperienze sportive e si è trovato appunto in quella spedizione tra l'altro era stato invitato era andato con Sergi Mingote alpinista molto famoso catalano morto proprio durante quella spedizione K2 vabbè poi tutti tutti gli 8000 sono pericolosi hanno sempre storie funeste legate il K2 è uno di quelli che probabilmente ha più morti durante i tentativi e in quella spedizione sono morte cinque persone tre disperse però comunque Mattia Conte si chiama il libro si chiama Campo 3 appunto ho raccontato quell'esperienza quella prima invernale perché se vi ricorderete le immagini dei dieci nepalesi che sono arrivati in vetta guidati da Nirmal Purja sono arrivati in vetta insieme conquistando per la prima volta il K2 in inverno Mattia non è arrivato in vetta è arrivato a Campo 3 da qui il titolo del libro e mi ha raccontato però appunto quello che è stata la spedizione come l'ha vissuta lui tra l'altro anche con uno sguardo abbastanza disincantato perché appunto lui non è un alpinista e non è neanche un montanaro arriva da tutte altre esperienze quindi si è avvicinato a questo mondo da poco ovviamente per scrivere un libro di questo tipo ho anche dovuto fare un percorso di studio della materia perché non è la mia ovviamente sono appassionata di montagna seguo l'alpinismo in maniera abbastanza superficiale non sono un'esperta e sì sono due aspetti dicevi nel senso che stiamo parlando di montagna stiamo parlando di persone che approcciano la montagna in un certo modo che fanno uno sport che poi in entrambi i casi è uno sport vagamente codificato quindi non si tratta proprio di uno sport sport nell'uno nell'altro caso sono molto diversi cioè l'alpinista ha come scopo arrivare in vetta quindi salire quando arriva in vetta ha la conclusione e torna indietro e torna giù da dove è arrivato noi che pratichiamo il trail invece arriviamo a un passo scendiamo e saliamo al passo successivo cioè è proprio un percorso l'alpinista ha un percorso verticale di ascesa e discesa il runner l'ultra runner ha un percorso orizzontale che lo porta orizzonte dopo orizzonte a continuare a viaggiare cioè io una volta che arrivo al passo non sono arrivata anzi è l'inizio di un nuovo di un nuovo step di un nuovo di un nuovo passaggio di qualche qualcosa di nuovo che sto per scoprire invece l'alpinista arriva ed è arrivato torna indietro è proprio una cosa un approccio diverso e tu in particolare poi non sei neanche soddisfatta quando tagli il traguardo perché racconti appunto che arrivata al traguardo non hai questa sensazione di di compiutezza di di arrivo ma stai già pensando a quello che viene dopo è perché se hai quella cosa lì che hai letto all'inizio all'irrequietezza la voglia di viaggiare non ti passa non ti passa mai cioè quando arrivi ok e anche chi pratica probabilmente sport di resistenza sport di questo tipo cioè una volta che arrivi in fondo stai mettendo un punto ma è un punto a capo vuol dire ho concluso questa cosa e adesso cosa potrò fare ok questa l'ho fatta il tour de jean l'ho fatto poi c'è il tour de glasier adesso ho fatto il tour de glasier quali altri nuovi mondi ci saranno da scoprire un sacco perché le possibilità sono pressoché infinite quindi l'arrivo è solo un nuovo punto di partenza banalmente è una frase un po' frase fatta potrei anche non dirla un sacco di partenza non dirla un sacco di partenza Grazie a tutti